Non voglio la Roma di Mourinho, voglio la Roma dei romanisti. Io non sono nessuno, sono uno in più. Non siamo qui in vacanze, non siamo qui in turismo, siamo qui per lavorare e per questa ragione allenamento alle 4 e il Vredecci ciao. Possiamo andare? Mourinho non è un stronzo. Mourinho ha grande rispetto per i Fridkin, ha grande rispetto per Tiago. Qualche anni fa io ho avuto a Londra per tre giorni la proprietà del Milan che mi voleva convincere a venire qua. E quando dopo tre giorni io ho deciso di dire no, non posso allenare il Milan, oggi mi fa un piacere tremendo che in quel momento lì ho deciso di dire no. Io ho detto torna a casa che non vado. C'è tanta cosa che passa nella mia testa. Tanta cosa, allo stesso tempo. Oggi non era lavoro, oggi era storia. Scrive o non scrive, abbiamo scritto. È il peggio arbitro che ho trovato nella mia vita. È il peggio. È il peggio. Tecnicamente orribile. Empatia zero. Voglio rimanere, però i miei giocatori meritano di più. Io anch'io merito di più. Sto un pochino stanco di essere allenatore, di essere uomo di comunicazione, di essere la faccia che dice siamo stati rubati. Sono un pochino stanco di essere tanto. Ma tu pensi che Di Balla sarebbe qua, senza una storia clinica? O Renato sarebbe qua, senza una storia clinica, per darti due esempi. Non sarebbero qua. Un giocatore che mi dispiace, però devo nominarlo, che è Berardi, che secondo me è un giocatore assolutamente fero. Prendere gialli, falli, rigore inesistente, doppio gialli, è troppo. Perché parlavamo di stabilità emocional durante 5 anni, ho ouvito parlare e studavamo tanto, una cosa che è fondamentale, ma ho dovuto trovare una parola in italiano che mi possa servire, senza me creare problemi. Se succede la mia partenza al finale della stagione, non sarà mai per decisione mia. Io voglio continuare qua. Non c'è divergenza di opinioni, non c'è divergenza di niente. Sono disponibile per ogni tipo di progetto che la società decida di fare. Siamo noi, è la Roma. Sono i tifosi più incredibili che ho mai visto nella vita. È un allenatore che basta il suo nome per la gente pensare che si chiama José Harry Mourinho Potter, non José Mourinho Felix.